Ciao a tutti! Fioreline e fioreline! E per me tutti in questo nuovo folle video! Oggi cosa andremo a fare? Giocheremo a Twister. Giocheremo a Twister chi non lo sapesse. E questo, allora, guardate già dalla ripagina. Alice le do, lo sa, quindi ve lo spiego. Allora, all'interno c'è stato un tappeto con disegni blu, rossi, gialli, verdi. E' tipo, io giro la ruota e ci esce mano destra sul blu e Alice deve mettere la mano destra sul blu. Avete capito? Ora iniziamo a giocare. Dai, allora. Ciao a tutti, capito? Alice, è il frattempo di ciarei ragazzi cosa devo fare. Bene, mi raccomando ragazzi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. Ok. Sto pensando, Alice, togliamoci le scalpe. Aspetta. No, sei rilassato. Ah, ecco. Sei rilassato? Sì. E' pronta, dalle. se vuoi sai che ti posso dare se vuoi ti posso dare i canali allora me li metto solo io che adesso ho più riscaldi perché ho ragazzi aspettate aspetta ma io non voglio la vedere metti pausa no? no fatto? no puoi rimettere pausa ragazzi metto un attimo pausa eccoci scusate un attimo allora guardate qui ci sta rosso blu lo so allora io direi ve l'hai spiegato già mi inizio io a girare la ruota oppure tu allora facciamo una cosa allora io ando tu allora quindi giro la ruota ok allora la giro la ti ne va si allora aspettate arrivo anche in più no no tu devi rimanere là perché bene bene allora inizio a girare la ruota aspettate già piede sinistro sul giallo piede sinistro sul giallo ok devi mettere il piede sinistro su tu io ok ora 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 io vediamo che devo fare ma io devo girare ma io non vado no no devi rimanere là ci siamo tutte e due allora piede sinistro su verde ecco qua dirò io dirò io no rimandi là uffa adesso devi essere rispettosa eh piede destro su blu ok bravo uh uh sei simbolo che succede per il verde piede sinistro sul giallo ok qua adesso ah ok 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 piede sinistro sul giallo eh sul rosso ma perché non posso mai girare piede sinistro sul rosso ok ok bravo piede sinistro sul rosso a me ah vabbè faccio una cosa stendere allontanata eh eh ah ah piede destro sul giallo dove è sul giallo oh questo qua aiuto no questo sul rosso ok ok questo sul giallo questo sul rosso no rosso giallo rosso giallo brava io piede destro sul verde quale piede destro questo di maronna di maronna ahahah i cazzetti di maronna di maronna di maria di maria ma di maria Vabbè Alice, devi mettere questo piede sul piede. Oddio. Brava. Serena, ragazzi la sto facendo. Ok. Serena, questo piede sul blu. Ok, non vale. Ok, mano destra sul verde, Alice. Mano destra sul verde. Vai. Brava. Ok. Aspetta, faccio una cosa. Mi ha girato solo la ruota. Brava, brava. Ragazzi. Mano destra sul verde. Dov'è sta mano destra? Già ce l'hai. Ok, vuoi non mettermi. Mano destra sul blu. Ma fa spider me la dice. Questa mano su... No, la mano destra è questa. Questa qua. Su blu. Dica mia. Vai. Vai. Alice, stai spaccata. No, non cadere. Non mettere. Ali, non stendere la lama. Te ne ti perdi. Alice, non cadere. Piede destro sul giallo. Ali, piede destro sul giallo. Si salva. Piede destro sul giallo. Brava. Si salva un po'. Ah! Ho sanziarvi. Mano destra sul rosso. No. Questa non te la faccio fare perché ti disperzi. Per colpa mia. Quindi... Che devo fare? No, sempre... Lo sanziarvi. No, sempre... Grazie.